Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento pomeridiano con le notizie dal web della città edizione culturale. Primo appuntamento dopo le vacanze natalizie, allora un buon 2012 a tutti voi. Cominciamo subito a vedere che cosa ci riserva la serata. Cominciamo come sempre dalla musica e vi segnaliamo questa sera il concerto dell'Armata Russa di San Pietroburgo. Oltre 100 artisti, costumi folcloristici, strumenti tradizionali, un impolente coro di voci maschili ed esibizioni acrobatiche. Alle ore 20 all'auditorio della RAI Arturo Toscanini. Passiamo al cinema, viene presentato questa sera il film Viaggio a New York 1961 di Enzo Gribaudio e Francesco Aschieri. Il film vi è rappresentato in occasione dell'uscita del volume di Michel Tapie, Devenis de Fontana e della relativa mostra di Lucio Fontana alla galleria Martha Jackson di New York. Questa sera alle ore 21 al cinema massimo in sala 3. Finiamo con la mostra d'arte, l'ultimo giorno per visitare la mostra allo spazio, le forme e i colori. Pitture invernali di Erminio Sivieri e uno spazio mentale inevitabilmente fisico che transita leggero dall'occhio del pittore al nostro sguardo. Questa sera dunque, scusate, durante tutta la giornata, tutto il pomeriggio è ancora possibile vedere la mostra alla Biblioteca Civica Cesare Pavese. Per quest'oggi è tutto, ringrazio Paolo Mosso per la messa in onda, ci vediamo domani pomeriggio e vi auguro una buona serata.